Sì, dal primo minuto abbiamo giocato bene contro una grande squadra. Sapevamo anche nella prima partita che giochiamo contro una grande squadra come Juve e che dobbiamo stare concentrati e aggressivi sui supportatori. Sono orgoglioso da questa squadra. Abbiamo avuto tutto fino al tantesimo minuto, però mi dispiace, mi dispiace tanto.